Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza, al momento ci sono un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e un chilometro di coda tra Ginestra e Montelupo verso Livorno. Sempre in FIPL code per lavori tra San Mignato ed Empoli Ovest in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve in uscita Scandici provenendo da Firenze. In A1 code tra Aglio e Calenzano e Sesto Fiorentino in direzione Roma. Rallentamenti per perdita di carico tra Firenze e Scandici e l'allacciamento con la 11 verso Bologna. In A11 in direzione Firenze e code a tratti tra Montecatini e l'allacciamento con la 1 e un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!